Lui di 24 febbraio, buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa del mattino. Siete su Fano TV, canale 17. Cominciamo come di consueto con il Santo per poi andare a vedere le previsioni del tempo e le pagine dei giornali, come sempre, in rassegna. Allora, il Santo di oggi è Sante Etelberto, re del Kent. Il sole sorgerà alle 6.55 e tramonterà alle 17.48. Volevo darvi anche un altro nome a proposito dei Santi, che adesso se la nostra applicazione del Santo del Giorno si apre, come è il consueto, quando serve non si apre mai. Comunque, vabbè, c'è un beato che volevo citarvi, ma vabbè, ve lo dirò la prossima volta. Allora, il sole, dicevo, tramonterà questo pomeriggio alle 17.48. Andiamo a vedere il tempo. Subito ho le previsioni della protezione civile delle Marche. Per oggi previsto cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature minime in aumento e le massime stazionarie. Anzi, avremo anche oggi temperature decisamente elevate. Arriveremo intorno sempre a 19-20 gradi, per esempio ad Ascoli. Domani, martedì 25 di febbraio, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature stazionarie. Mercoledì ha atteso, invece, un transito di una perturbazione con deboli fenomeni che saranno associati a precipitazioni. Dunque ci sarà un po' di pioggia, ma poi tornerà il bel tempo. Vediamo le temperature previste appunto per le 14 di oggi. Abbiamo ancora 15 gradi, Pesaro 16, Fano 16, San Benedetto 14, Urbino 16 gradi. Ma, diciamo, la temperatura più alta verrà registrata da Ascoli Piceno con 20-19 gradi, 20 gradi, insomma, più o meno. Allora, il coronavirus, la psicosi dal coronavirus sta colpendo anche la regione, la nostra regione, la regione Marche, che ancora al momento non registra alcun caso ufficiale di contagio, ma il fatto che si sta avvicinando, nel senso che la vicina Romagna, Emilia Romagna, ha segnalato già alcuni casi, praticamente si sta fermando, sta fermando quasi tutto, così come il nord Italia, che possiamo dire è in quarantena. Insomma, la situazione è quella che è e di conseguenza aumenta la psicosi, la paura di essere contagiati, di dover rimanere in casa in quarantena e dunque c'è la corsa ai supermercati, tanta gente che è andata a comprare e a fare le scorte. Alcuni hanno, come nel caso del Cannavale di Fano, rinunciato a partecipare, disdicendo i pullman e quindi rimanendo ognuno nelle proprie città. Insomma, di questo e di altro si parla soprattutto sui giornali di questa mattina. Però l'apertura, l'apertura della nostra segna stampa, la dedichiamo a queste fotografie che arrivano da Lucrezia di Cartoceto. Siamo in circonvalazione Kennedy. Come vedete si notano due camionette, due mezzi dei Vigili del Fuoco, una camionetta e del filo bianco e rosso, classico nastro bianco e rosso in fondo, che sbarra una strada. Siamo nei pressi della Cop a Lucrezia, siamo nei pressi di un parco, un parco martiri di Bologna. Ebbene, perché questo intervento dei Vigili del Fuoco? Intanto l'intervento di ieri sera, tarda serata, c'è stata una fuga di gas, una fuga di metano. A dire il vero i testimoni parlano di odore di metano, di gas metano, già dal pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio. Poi l'intervento intorno ai 22 di ieri, insomma, dei Vigili del Fuoco che hanno fatto andare via dalle proprie abitazioni alcune persone e poi hanno chiuso praticamente tutte le strade, compresa questa che è importante, via le circonvalazioni Kennedy, praticamente la parallela della Flaminia che si trova al di là del parco. E hanno fatto questo intervento per sistemare questa perdita di gas. Questa è un'altra fotografia, vedete la Cop in fondo, la bocciofila, ecco la situazione da un'altra prospettiva presa dalla montagnola del Giardinetti, del parco di Lucrezia. Oggi naturalmente, sia sul sito che questa sera nel telegiornale, vi daremo tutti i ragguagli e tutte le informazioni. Allora, adesso andiamo a leggere i giornali. Coronavirus, ora è caccia ai viveri. Scappali svuotati all'ipercop, la psicosi monta, timore di contagio bloccata la gita di classe della Don Gaudiano. A centropagina il Carnevale di Pesaro, più forti della paura, questo è il titolo. Migliaia alla sfilata del Carnevale dei ragazzi di Pesaro, che hanno dunque portato avanti quello che avevano organizzato da tempo, le mascherate e quant'altro. Ma c'è anche la politica con Morani, Alessia Morani, che si scaglia contro Mangialardi. Qualcuno aveva ipotizzato, aveva azzardato il nome del sindaco attuale di Senigallia come candidato per il PD alle prossime regionali. E quindi a rivestire il ruolo di governatore. Ma Alessia Morani frena e parla di passo azzardato. Il deputato della PD liquida dunque così la proposta da parte del suo partito di scegliere l'attuale sindaco di Senigallia come candidato alla poltrona di governatore alle prossime regionali. Nulla da dire sulla qualità della persona, dice la Morani, e del politico, ma si tratta di una proposta che non rientra nel percorso deciso nell'ultima direzione regionale. Vorrei richiamare l'unità, continua ancora Alessia Morani, e al senso di responsabilità, il gruppo dirigente del mio partito. Una volta saltato Ceriscioli, proporre Mangialardi, continua la Morani, rischia di interrompere la discussione in corso con i nostri alleati e di minare il percorso che può portarci a proporre una candidatura condivisa e vincente. Evitiamo di fare passi azzardati in un momento così difficile e dedicato. Poi, delicato, a Fano un modello di aereo telecomandato che si schianta contro una palestra vicino all'ex campo d'aviazione, mentre a Farminiano è stato inaugurato il parco in ricordo del ciclista Scarponi, Michele Scarponi. La pagina invece del Corriere Adriatico, sempre edizione pesarese, la psicosi da coronavirus, questo è il titolo, svuota il pronto soccorso? Ebbene sì, perché la possibilità di contagio seleziona praticamente le richieste. Oggi intanto l'azienda ospedaliera Marche Nord fa la conta della dotazione di presidi. Mentre a centro pagina il Carnevale di Fano occupa la fotonotizia e la parte centrale della prima pagina. Un Carnevale che saluta senza affanni, oltre 11.300 persone alla sfilata conclusiva, qualche defezione di turisti, ma nessun timore. Piace anche il discorso Povia che fa il pieno al pincio, mentre il sindaco Seri parla di eventi e dice non li cancelleremo, non li cancelliamo, questo perlomeno stando alle notizie fino a ieri che arrivavano dalla Regione Marche, dal Gores che assicurava a tutti che comunque nelle Marche non c'è al momento nessun caso di contagio. Quindi nessuna persona che è contagiata dal coronavirus. Mentre lo sport, sempre sulla pagina del Corriere di questa mattina, il Fano si prepara alla sfida di Rimini. Dopo l'importante vittoria con Limolese, mercoledì il Fano sarà di scena al neri di Rimini per il più classico degli scontri diretti e per evitare la retrocessione soprattutto. E poi la Vispesero che si gode il pareggio 1-1, il grande gol di Marcheggiani. Mentre sotto, sempre nella prima pagina del Corriere, cade in bicicletta nel bosco e scatta il soccorso di Vigili del Fuoco e di 118. Gli amici che erano sulla strada di San Giovanni in Ghiaiolo hanno aiutato il personale a trovare subito il ferito. Anche sulla pagina del Corriere trova spazio in prima il richiamo di Alessia Morani al suo partito. Accettate il Civico, mentre Ceriscioli non molla, slitta la direzione del partito. Entriamo nelle pagine interne e vediamo subito quali sono gli argomenti sviluppati. Innanzitutto il coronavirus, la fede più forte del virus, titola sulla pagina di Pesaro, il Corriere, anche il rituale non si tocca, qualche presenza in meno soprattutto di bambini. Spuntano flaconi di amuchina anche in chiesa, però per il resto il racconto di questa mattina di chi ha girato, Thomas Delbianco in particolare, del Corriere che ha girato qualche chiesa per seguire le funzioni, per raccontare un po' se c'erano appunto dei cambiamenti. Abbiamo visto che nel nord dell'Italia, anche nei paesi dove c'è il focolaio di questo virus, le messe sono state sospese, sono state cambiate alcuni rituali come lo scambio della pace, le acqua e santiere praticamente vuote, senza acqua, benedetta e l'eucarestia che non viene data in bocca ma soltanto nella mano. Nella chiesa del porto a Pesaro qualche fedele in meno rispetto alle normali funzioni dominicali, durante la messa si è cercato di dare l'ostia per mano ma senza opporsi a chi l'ha voluta invece come sempre ricevere in bocca. Mentre in un'altra parrocchia, nella parrocchia di San Paolo, nel quartiere della Tombaccia, c'erano meno bambini rispetto al solito, il parroco ha lanciato un messaggio positivo anche guardando alle prossime attività parrocchiali, compreso un viaggio in Terra Santa dopo l'estate, Don Marco di Giorgio, parroco invece di San Luigi, riferisce che alla messa è stato tutto normale per la comunione ognuno ha scelto come riceverla, stessa situazione anche in cattedrale e nella chiesa della Madonna delle Grazie dove tra l'altro ieri c'erano anche delle compagnie di turisti che sono andate a visitare appunto il santuario in pieno centro. L'Accademia invece, andiamo a Urbino, rinvia la tesi, l'Ateneo ferma gli studenti, l'ospedale troppo affollato, i visitatori vanno limitati. E a proposito di Urbino, vi c'è da dire che tutti quelli che frequentano giurisprudenza appunto all'Università di Urbino oggi non avranno lezione perché le lezioni sono sospese per chi frequenta giurisprudenza. Guardate invece questa fotografia, è un'immagine di repertorio che il giornale pubblica questa mattina, il resto del Carlino, di un supermercato preso d'assalto per le emergenze che inducono i cittadini a rifornirsi affannosamente di alimenti. Questa, ripetiamo, è una fotografia di repertorio ma che in sostanza non cambia poi applicata ai nostri giorni perché in tanti ieri ne hanno approfittato. ha detto che non si sa mai e quindi prendiamoci e facciamoci le scorte. Il virus svuota gli scafali, questo è il titolo, viveri presi d'assalto all'Ipercop, raffica di chiamate al 112 e psicosi. Decine di telefonate ai carabinieri da parte di chi chiede come comportarsi in caso di febbre e ieri al pronto soccorso sala di attesa praticamente vuota tutta la mattina. Però lo ricordiamo, tra le tante cose che si vengono raccomandate, in questo caso vi ricordiamo che ci sono dei siti specifici come quello del Ministero della Salute per essere informati in maniera corretta sulle cose da fare, sui numeri da chiamare eccetera eccetera, va detto che se uno vuol farsi visitare o pensa di avere l'influenza o pensa di essere contagiato comunque non bisogna mai andare al pronto soccorso per evitare di contagiare anche gli altri ma di chiamare il 112. Dopodiché scatta tutta la procedura, vengono a casa, ti fanno il tampone, vedono se c'hai e poi si decide se tenerti in quarantena, hai la possibilità di stare a casa dunque in isolamento oppure di portarti in una struttura dedicata. Questo in linea di massima. Allora, andiamo avanti velocemente. Ah no, c'è anche, chiedo scusa, questo riferimento al Carnevale di Fano a proposito del coronavirus. Allora, il Carnevale di Fano doveva essere sospeso, qualcuno dice scoppia la polemica sul pericolo contagio, in particolare il Carlino questa mattina pubblica l'intervento dell'ex sindaco di Fano Enzo Cicetti. Il paradosso del pronto soccorso invece, meno accessi di codici non gravi, la paura del contagio seleziona i pazienti, presidi sanitari, oggi Marche Nord fa il punto sulle scorte, il governatore rassicura massima allerta ma non ci sono casi, mentre Carloni della Lega chiede che si faccia come in Emilia Romagna. Gite scolastiche, un preside blocca due pullman, lezioni regolari, ma i genitori sono impauriti. Roberto Rossini dice ci stanno trasformando in uno stato di cera, creando panico. Il Ministero non è affatto chiaro, ma ci sono dei timori anche per degli studenti di rientro da Padova, sono di Fano, le mamme allertano il sindaco, due classi terze della scuola media Gandiglio che venerdì sono stati in gita a Padova, alcuni di essi pare che manifestino i tipici sintomi influenzali con tosse e mal di gola, ma insomma i genitori sono un po' allarmati, ma non sembra che ci sia nulla di che. Il sindaco Ari ha detto che incontrerà i vertici dell'Asur per stabilire il da farsi, intanto cresce la preoccupazione perché questa mattina non essendo stato adottato alcun provenimento a Fano le scuole saranno regolarmente aperte, dunque è una situazione che diversi genitori non ritengono prudente, però va da sì che se questi ragazzi sono stati a Padova in gita e qualcuno ha l'influenza stiano pure a casa, cioè nella fine del mondo, non credo che i genitori li mandino a scuola, quindi vabbè comunque non creiamo panico inutilmente anche con queste cose perché non c'è senso insomma ecco, stiamo tranquilli e viviamo in pace. Allora, psicosi e paure non turbano il gran filare del Carnevale, oltre 11.300 persone alla sfilata dei carri. Al Pincio fa il pieno pure il discusso Povia, Povia che ieri è stato ospite qui nei nostri studi durante il processo al Carnevale insieme alla Presidente Maria Flora Gianmarioli, Povia che è stato accolto invece con tanti applausi appunto al Pincio, vi abbiamo fatto vedere le immagini, soltanto una piccola contestazione ma lontano dal Pincio dove qualcuno ha così dato dei volantini evidentemente per continuare ad attaccare il cantautore. Intanto anche il resto del Carlino parla di psicosi da virus al Carnevale di Fano che si ferma a quota 11.000, è purtroppo sì un record negativo di presenze anche perché l'ultima giornata di Carnevale, l'ultima sfilata di Carnevale notoriamente è quella dove si fa il cosiddetto pienone e ieri invece c'erano meno persone della prima sfilata quando si è toccati 11.900 più o meno biglietti staccati. Ieri doveva essere tutto esaurito quindi dovevano essere venduti almeno 14.000, insomma quelli ecco i 14.425 che sono il numero massimo di biglietti stampabili per il Carnevale. invece ieri sono stati venduti 11.365 biglietti e quindi è andata peggio della prima sfilata in cui invece erano state staccati 1.900 tagliandi. Per il resto c'è il racconto di come è andata questa domenica comunque è stata una bella domenica di sole, una domenica nella quale insomma c'era un bel colpo d'occhio tanta gente, chiaro non c'era il pienone come abbiamo detto però insomma qui vedete un momento di una sfilata la sfilata delle Barbie Girl e poi qua invece Povia con la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gian Marioli. Andiamo avanti ancora dal Carnevale di Fano, questo è il Corriere Adriatico l'ultimo messaggio green dei bambini, Via Le Gramsci in vaso, tappeto rosso e sfilata dalla scuola della scuola di Sant'Orso con gli alunni vestiti con materiale riciclato spettacolo ai Veglioni, a Villa Piccinetti vincono gli scherzi della natura alla Veglione della Gruppe invece trionfa Noè con la sua arca e qui ci sono le fotografie di questi due, di questi momenti. Allora qui abbiamo la sfilata della scuola di Sant'Orso poi l'arrivo dei bambini in Via Le Gramsci con lo sfondo vedete dell'arco d'agusto poi sotto invece i due Veglioni, questo è il Veglione a Villa Piccinetti dove c'è la foto del gruppo vincente che si chiama Grazie dei Fiori e poi di qua invece il primo posto al Veglione della Gruppa con i premiati, i vincitori di questa mascherata. Mentre il Carnevale a Pesaro si burla di paure psicosi Rabachen fa ancora il pieno di bimbi, vince il caro Toy Story 4 di Santa Veneranda Santa Croce e San Luigi, la sfilata di maschere va invece a premiare il quartiere di Loreto mentre sulla pagina di Pesaro anche qui il titolo con Toy Story 4 vince il caro grande Santa Croce e San Luigi non è affatto male, direi che insomma ci assomigliano ci assomigliano tanto e sono fatti molto bene ecco, e qua sotto gli altri carri che il Carlino pubblica con degli scatti fotografici la politica verso le regionali, PD Roma vuole esserci, slitta la direzione Morani c'è solo una via, Ceriscioli insiste intanto nel piano B di area 70 Mangialardi raccoglie firme e anche la Mancinelli non molla anche se aveva detto che lei non si sarebbe candidata, chissà che magari ci ripensi oggi il governatore presenterà un sondaggio, un controsondaggio rispetto a quello che ha pubblicato il giornale qualche giorno fa e che valorizza il lavoro fatto in questi cinque anni il rivio dell'incontro serve pure per tentare una mediazione estrema prima dello scontro finale la cronaca, un escursionista si sente male e un biker rovina a terra ieri ci sono stati due interventi dei vigili del fuoco per soccorrere due escursionisti uno si è sentito male, un 58enne di Fano che mentre stava camminando lungo il sentiero che da Cantiano sale sul Monte Catre ha avvertito a un certo punto un forte dolore al torace e temendo di avere un arresto cardiaco ha chiamato i soccorsi che sono arrivati in breve tempo però poi si è scoperto che era soltanto un dolore articolare non dovuto a sofferenza cardiaca questo è avvenuto intorno alle 10 del mattino mentre nel secondo intervento alle 10.30 ieri mattina è stato fatto a Giovanni Inghiaiolo vicino a Urbino un ciclista, un mountain bike, un trentenne del posto è caduto in un fossato lussandosi una spalla, anche in questo caso è stato soccorso dai vigili del fuoco il titolo invece del corriere di Urbino cade con la bici, colpo alla clavicola soccorso nel sentiero da vigili 118 un ciclista amatoriale, mountain bike, anche qui si racconta di come è stato soccorso era in un sentiero a circa un chilometro dalla strada principale di San Giovanni Inghiaiolo ed è stato soccorso dai vigili del fuoco questo ragazzo durante questa escursione si è ferito alla clavicola in seguito ad una brutta caduta intorno alle 10.30 i compagni di viaggio hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco che sono subito arrivati sul posto e gli stessi amici del malcapitato ciclista sono scesi sulla strada principale per indicare agli operatori l'esatta posizione dell'intervento dove subito dopo è piumbata anche un'ambulanza del 118 di Urbino poi l'altro intervento invece è il secondo della mattinata è stato come abbiamo detto effettuato dai vigili del fuoco di Caglia a Chiaserna nei pressi di Cantiano intorno alle 10 un malore che ha colpito un uomo in compagnia di altre persone l'uomo come abbiamo visto però pensava di avere un arresto cardiaco in realtà poi era solo un disturbo un problema quasi intercostale insomma il bike park invece a Fermignano ora è una realtà unica nel nome di Michele Scarponi la struttura di Cavanzino costata 150.000 euro è la prima in Italia certificata direttamente dal Comitato Olimpico il virtuoso bilancio a San Lorenzo in campo strappa l'applauso ai sindacati è stato firmato l'accordo con l'amministrazione bene le tariffe invariate le agevolazioni e i servizi ampliati positivo l'aumento ore dell'assistente sociale disponibilità passata da 8 a 26 ore settimanali mentre a Mondolfo chiediamo uno spazio ma il Comune dice pagate l'appello dei volontari dell'associazione i randaggi nel cuore che cercano una sede per poter svolgere la loro attività verso il voto a Senigallia a Senigallia sapete si vota per eleggere il nuovo sindaco che prenderà il posto di Maurizio Mangialardi Vittorio Sgarbi lancia la sfida e dice potrei fare io l'assessore alla cultura del Comune di Senigallia l'ipotesi è quella di scendere in campo con il centrodestra penso ad un ticket dice con il sindaco e poi sempre da Senigallia la cronaca ruba in una boutique tradito dalla spycam, dalla telecamera sfila, si infila in un negozio del centro storico e fugge con i soldi, i vestiti e anche un iPad ed è stato però rintracciato e denunciato dai carabinieri un aereo telecomandato si schianta in fiamme abbattuta la cancellata di una palestra nella zona dell'ex sacrificio esplode il serbatoio, boato e un'alta colonna di fumo è successo questo nella giornata di ieri se non ho letto male da qualche parte comunque un aereo che era telecomandato che si è schiantato contro questa cancellata a qualche metro dalle vetrate dietro le quali si stavano allenando alcuni sportivi nessun ferito ieri mattina poco prima di mezzogiorno nella zona dell'ex sacrificio in via del commercio e questa è la fotografia che si riferisce appunto a questo aereo telecomandato che è caduto su questa cancellata navetta per andare a fare ginnastica invece da oggi parte il servizio di trasporto scolastico a Fano per consentire agli studenti del Nolfi dislocati in varie sedi di raggiungere in tempi celeri le strutture sportive a disposizione per frequentare le lezioni di educazione fisica e il servizio è finanziato dalla provincia di Pesorubino tornando a Pesorubino invece questa è la fotografia che riguarda l'accensione delle luminarie con i versi un po' come è successo a Bologna durante il Natale con i versi però di Pasqualone Pagnini sabato tocca a Via Passeri e intanto si pensa ad una giornata del dialetto Lettere di luce via Castelfidardo è una poesia chi va a Castelfidardo a Pesoro e si fa questa passeggiata lungo la via potrà leggere alzando gli occhi in alto potrà leggere queste scritte con i versi di Pasqualone e poi di Pagnini e questa è un po' l'ultima pagina della nostra segna stampa lo sport con la Lube la Lube che dopo il mondiale per club si aggiudica la sesta Coppa Italia della sua storia a Casalecchio di Reno al termine di una finale entusiasmante è vinta meritatamente Lube Civitanova che vince 3 a 2 sulla Sir Sarti Perugia un risultato straordinario una squadra che praticamente è campione davvero di tutto e noi ci fermiamo qua vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia poi subito dopo ci sarà primo cittadino con questa sera il sindaco di Fano Massimo Seri se volete intervenire come sempre i numeri li conoscete e quindi aspettiamo le vostre telefonate e i vostri messaggi per tutto il resto ci vediamo alle 20.30 con Occhio alla Notizia arrivederci a